Questo è un concorso che appunto abbiamo scopiazzato, non so in quale comune, ma non c'erano i diritti da pagare. La bella è alla tantissima, ha un giardino stupendo, oltre che i pironi e tutto il resto. C'è anche la televisione. Complimenti signora. Veramente complimente la signora, grazie. Cioè andiamo tutti ad ammirare il giardino della signora. Allora, oltre alla pergamena c'è anche una bottiglia di vino che non fa male, era solo la prima.